Marcos, il ristorante per persone dal gusto buono. Ah, che fettuccine, così cremose e deliziose. Calamari, croccante, leggerissime, come sono buoni. Ah, calzone, meraviglioso. Un assaggio di paradiso. If you would like your taste buds to thank you, bring them to Marcos' Ristorante Italiano, located on Front Street in Mariner's Alley, open daily for lunch, dinner, and gelato.